Nel 2020 sono state 2.309 le persone e famiglie registrate presso i servizi della Caritas di Arezzo Cortona e Sansepolcro. 721 persone si sono rivolte per la prima volta alla Caritas con un aumento di nuovi poveri dell'83,5% rispetto all'anno precedente. Sono i numeri contenuti sul rapporto diocesano sulle povertà 2021 stilato dalla Caritas che si intitola Contagiati. Contagiati ma non tanto in riferimento al Covid quanto vogliamo che siano contagiati lo spirito dei cuori affinché si possa veramente aprirsi all'ascolto di tutti. Perché questo rapporto denota una situazione di grande difficoltà della nostra popolazione diocesana che deve essere ascoltata. Oggi purtroppo l'ascolto non c'è più, la gente non ascolta più, invece contagiamoci all'ascolto perché l'83,5% di accessi ai centri di ascolto in più rispetto agli altri anni hanno diritto ad essere ascoltati. E c'è un fattore particolare, molti ci rivolgano a noi anche per cure mediche perché oggi la prima cosa che viene eliminata sono le spese mediche accessorie e questo lascia molto a pensare. La presentazione del rapporto all'interno del liceo Colonna di Arezzo rispetto al disagio delle famiglie ci racconta il Preside. C'è ancora tanto sommerso. Noi crediamo che la famosa educazione civica di cui tanto si parla come reintroduzione di un qualche cosa di indispensabile agli studenti, non sia soltanto lo studio dei principi su cui si fonda il nostro Stato, ma sia un'acquisizione critica di questi principi, ovvero sia tradotto in concreto, ma ciò che afferma la Costituzione trova veramente applicazione nella vita quotidiana. C'è rispondenza in quello che noi viviamo quotidianamente? Allora, la Costituzione ci dice ad esempio che tutti hanno diritto al lavoro, c'è il lavoro, che tutti hanno diritto ad una vita dignitosa. E' vero questo che tutti gli abitanti del nostro territorio vivono dignitosamente? Ecco perché noi abbiamo accettato, anzi abbiamo richiesto questa presentazione qui nei nostri locali. Proprio perché il rapporto della Caritas traccia con dati matematici, e la matematica si sa da sé è obiettiva, quella che è realmente la situazione e quindi si presta a fare un raffronto con quello che i suoi libri i nostri ragazzi trovano. La scuola è sicuramente un ambiente dove possono emergere anche alcuni disagi. I ragazzi riescono ad affidarsi. Voi riuscite ad avere un osservatorio aderente a quelle che sono le situazioni delle famiglie, anche purtroppo chi è in povertà? Ma devo dire che gli studenti sono molto dignitosi, per cui le famiglie in sé spesso questo disagio non viene manifestato. Quindi c'è tanto sommerso, sì.